ragazzi buonasera buon pomeriggio e chi ci guarderà domani buongiorno video pre registrato dovuto direi perché la tappa di oggi merita merita un video dedicato solo per la tappa di oggi con tutte queste cose pazze fogli che sono successe tappa di oggi una tappa che nel frattempo salutiamo ciao marcello allora io farei subito vedere una piccola sintesi addirittura abbiamo trovato anche il video sperando che youtube non ci rompa le scatole tutto settato a modino rompe a te le scatole ormai siamo in guerra siamo sempre dissociati allora tappa non difficile solo il puerto di ammaciar c'era a circa 20 chilometri all'arrivo partano in 30 guarda se tu provi a leggere tutti i 31 è anche un shock man per lo che c'era cradoc storer arends man van barley narvaez oliva che non mi stai facendo e lison allora a un certo punto c'era anche cesare benetti pascoli e poi contrattacca storer sulla punto sulla salita difficile e 12 minuti di vantaggio avevano a un certo punto roglic attacca poi approfondiamo un attimino cos'è successo attacca roglic a 12 minuti e mezzo nella fuga con martin e king in fuga che praticamente avevano già soffiato la maglia mas lopez e ghekus sono gli unici che rimangono attaccati ecco 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 curva 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 e qui c'è la caduta e qui c'è la caduta dei roglic facciamo vedere anche a velocità normale qui rimette a posto la catena questa velocità normale e prende una bella botta non forte di strusciata ma non lo diciamo che se sono strusciato non si fa niente dai in teoria no in teoria no roglic domani parte e gli altri erano in cinque storer va a vincere con più di 12 minuti di vantaggio sul gruppetto di roglic mass e lopez e questa è una sintesi molto veloce di quello che è successo con la tra cui c'era e king e guillem martin che erano a nove minuti all'incirca nove minuti nove minuti e mezzo martin dalla maglia rossa la jumbo sta davanti in pianura li lascia andare e poco prima della salita avevano più di 13 minuti di vantaggio i fuggitivi poi c'è un po di bagarre davanti abbiamo visto appunto trentin ci ha provato con a ramburu poi alla fine che aveva più gambe su quella salita che presentava gli ultimi tre chilometri al 10 per cento medio quindi una salita niente di particolare l'ultimo pezzettino non era male se ne va storer che dimostra di essere e io l'ho beccato nel mio jolly dimostra di essere un grande corridore comunque un ottimo corridore in un'ottima forma e fa doppietta in un'ottima squadra no la squadra magari no però con tutte le vicessitudine che sono successe quest'anno cosa succede che avendo più di 13 minuti tecnicamente c'era e king con quattro minuti di vantaggio e guillem martin tre minuti e mezzo ora e king magari non lo sappiamo si è classificato secondo al tour norway mi sembra comunque è un buon corridore ma non ha dimostrato ancora niente in tre settimane guillem martin è uno che ma chi è ma chi è king scusa scusa ma chi è è un discepolo del metodo scientifico più scientifico che filosofico direi del metodo martin il famoso metodo martin che permette di rientrare in classifica cioè che permette agli scalatori fantasma che sono dei fantasmi in salita di rientrare in classifica con le fughe bidone in pianura è arrivato secondo dietro ben ermans al giro di norvegia in pratica niente di particolare ma chi è ma chi è ma non ma non esiste king è come la maglia di profeta non esiste ma chi è king ma chi ha mai sentito nominare king ma non lo conosce neanche valerio piva vabbè ora la questione stai sottovalutando la setta stai sottovalutando la setta delle fughe bidone cioè a un certo punto ma chi è king a un certo punto cosa succede succede che guillem martin e appunto e king comunque aveva un discreto margine ora a me e king non interessa a livello di classifica generale non credo possa reggere perché anche tu non sai chi sia fai parlare comunque è nato più forte comunque uguale a guillem martin quindi comunque tutti e due vanno trattati alla solita maniera però guillem martin ha più curriculum nelle tre settimane cosa succede succede una cosa inaspettata roglic a due chilometri dal gpm del tratto più duro attacca aveva kus e basta non aveva più compagni di squadra invece di dire a kus fai ritmo in salita no decide di attaccare attacca e appunto solo mass lopez jack egg e kus riescono a rimanere lì a una trentina di secondi poi sulla discesa appunto probabilmente non lo so ha esagerato un po' troppo quest'anno roglic attenzione parigi inizia tour de france e alla guetta è tristica perché più che caschi ma perché devi rischiare rischiare è che più che caschi e più che ricaschi e più che ricaschi la domanda che vi faccio io la domanda che faccio io per prima andare a vedere l'ordine d'arrivo e di stacchi e la nuova classifica chi è la domanda che vi faccio a voi due è perché roglic ha gestito così male la corsa e è stato costretto a attaccare su monteserra di spagna fondamentalmente perché quello era monteserra peggio forse peggio forse peggio non ci sono le antenne su perché è stato costretto a attaccare e cosa faceva cioè perché la domanda è perché cioè fai lavorare meglio la squadra in pianura contiene la fuga a sette otto minuti regala magari la maglia la regali di 30 secondi un minuto ma non di tre minuti allora il motivo è questo faccio presto è che la jumbo bisma è una squadra inesistente a questa volta io all'inizio pensavo che fossero rimasti scottati dal tour del 2020 in cui avevano stradominato fino all'ultima tappa e poi erano rimasti fregati e quindi dall'inizio no cercavano di levarsi le responsabilità no di non tenere la maglia poi sì però l'attacco di robic c'è una tappa come oggi una tappa come oggi allora in pianura mettiamo non vuoi tenere la corsa non tenere frega niente della maglia e quindi non tiri e ci fa poi alla prima salite salitella rimani solo con corso allora io mi chiedo non hai la squadra cioè perché non è in grado di tenere la corsa in pianura non è in grado di lasciare due o tre uomini in salita con roglice quindi ufficialmente la squadra giovo bisma non c'è punto cioè non è chi ha gestito se sembra sembra anche condizione sembra che condizione ma io non so che lui e vuoi fare la top ten a lui a me sembra che ora per fare la top ten o sbaglio non lo so eh ma perché mi sembra anche giusto scusa ma perché farà il suo cioè allora scusa permettiti a far ritmo no perché lui allora ci devono andare via martin top ten o e king o groshartner state un attimo buoni ma scusate ma la nuova tendenza delle super squadre piene di soldi e tutto il resto è quella di metterne due nella top ten la movistar la inios e la adesso la di umbo e nel ma che cazzo di corse sono perché se no il capitano è il contentino i punti i punti war tour ma chi se ne prega con sta storia qua dei punti war tour squadre di alto sempre war tour che hanno budget inferiori tirano fuori la fuga giusta e il ridore che nessuno conosce cioè io sono contento che ci sia tanta varietà però io fossi l'organizzatore della volta che è una corsa che a me piace non l'amo come il giro d'italia ma mi piace io fossi il il patrò della volta io stasera mi sparo 20 litri di sangria per la disperazione premetto a me fa schifo la sangria perché la cosa più schifosa che c'è da bere al mondo mi bevo 20 litri di sangria perché dico cazzo c'ho uno che non so chi sia maglia rossa e magari se la tiene anche molto probabilmente di una squadra che la terrappe qualche giorno ottimo l'impegno io chi investe nello sport ha tutta la mia stima a tutte le a tutti i miei complimenti però cioè è come se lo scudetto di calcio lo vincesse una squadra di seconda fascia terza fascia punto non è non è non è che non è che vince la vuelta la porterà per qualche giorno ma no ma no ma io in questa settimana in questa settimana io penso alla spagna dove su as marca fanno vedere la come si chiama in prima pagina la vuelta mentre sugli altri due giornali catalane sono ancora lì che piangono per messi che andato via cioè io cosa faccio vendo il giornale mettendo la foto di e io lo compro il giornale da spagnolo la foto di robic però scusa è così dall'inizio io voglio io fossi lì game il patron della vuelta mi sparerei dicendo ma cosa mi sono ritrovato qua cioè la vuelta ne abbiamo già parlato l'altro ieri è la corsa delle degli ultimi degli è la corsa del dell'ultima dell'ultima spiaggia questo non significa che ci siano gli scadenti alla vuelta ci sono dei grandi corridoi corridoi che volete col tour corridori che vogliono riparsi di una stagione magari è andata male corridori che sono caduti al tour che vogliono vincere la vuelta così qualcuno che è caduto oggi però grazie c'è marcello però allora tutti tutti gli anni nei grandi giri qualche maglia rosa gialla o rossa di secondo piano c'è sempre non te le sto alencare ma tutti l'anni qualcuno prende la maglia di leader per qualche giorno io il problema mio è che dal primo giallo la gialla no la gialla è la gialla un po più ma che ora però è da pesca una riflessione facciamo con i primi chilometri che rovic voleva cedere la maglia giusto da primi chilometri sarà capito e dalla quarta tappa allora facciamo così questo è l'ordine d'arrivo che storia il vance avvena champus and van barley e king praticamente arrivano tutti e 31 peccato bagioli che ci credevo sinceramente va bene così a 22 anni va bene così ci serve poi per il mondiale per gli europei ok aramburud era uno dei favoriti ha preso 5 minuti e 17 magnus court 7 25 e mi sono perso non trovo ok poi vlaso ben rientrato alla fine su lopez curse jack egg e grossartner quindi questi qua sono arrivati a 11 e 49 quindi roglic con quell'attacco poi caduta poi ripreso da massa e lopez comunque un minuto un minuto e mezzo l'ha recuperato dall'inizio della salita no sul traguardo però se noi guardiamo la classifica generale ad oggi c'è e king 58 secondi su ghi e martin roglic a 2 17 ora sto ritardo non è colossale ok però è stato assurdo il fatto di lasciare la fuga e poi attaccare su una salita pressoché difficile ma abbastanza banale per cosa allora la maglia la volete né o non la volete né se volevi limitare il distacco fai tirare la squadra prima ma non ce l'ha la squadra ti ho detto allora devi fare una riflessione un po più ampia allora la jumbo visbo ha sbagliato squalio punto ha portato un prossimo anno diventa più forte mullà il prossimo anno ha preso un supercorridore aspetta 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 infatti faccio una riflessione allora la jumbo la inios perché la inios ha sbagliato squalio perché ha portato gente non funzionale tre mezzi capitani di cui nemmeno uno in forma quindi lasciamo perdere non è anche quella non è una squadra sono è una cozzaglia di gente messa lì a caso la bahrain ha sbagliato squadra uguale perché appunto aveva giusto avere il dovere di cronaca manda oggi aveva tutto in forma tranne che quello su cui hanno puntato quindi hanno perso tempo ora sono un po in confusione la mobista sì mi aspettavo forse qualcosa di più della mobista che è l'unica squadra decente che ma c'è mas che sta andando bene comunque guarda però marcello anche la mobista non puoi lasciare abbi pazienza scusami guillem martin sul lopez c'ha quasi tre minuti due minuti e quaranta ora con tutto il rispetto per eking e guillem martin che magari possono arrivare in top ten con questa fuga cioè però movistar c'è limita dal lasciali 50 secondi un minuto lasciare lì vicino in modo tale che alla prossima rimonza lì sai cosa ti dico io io ti dico che la corsa la deve fare la bahrain perché è una squadra che deve cercare un capitano non la deve fare la la jumbo e nel bisma eccetera eccetera non la deve fare la ineos non la deve farla movista la deve farla bahrain secondo me perché loro devono cercare di mettere un po di pepe agli altri e tirare fuori in corsa in corsa un capitano deve essere il responsabilizzato che non ha mai fatto il capitano perché l'altro giorno cosa ho detto ma come cazzo si fa a parlare tre minuti jack haig già chi è jack haig voglio ancora capirlo un punto primo perché non ho mai fatto jack haig è uno che ha da ragazzo ma non è un top five di gc come dicono visto che adesso bisogna parlare inglese non è un top five da gc non è uno che ha fatto i primi cinque nei grandi giri ma se bernale e yates un banno e chi ci deve arrivare se bernale e yates un banno c'è lui l'anno un banno io penso che jack haig avrebbe fatto bene secondo me però scusate a questo punto io fossi la bahrain visto che sono fortissimi tranne landa sono tutti forti alla bahrain io farei la corsa per per capire se jack haig è effettivamente il super outsider o l'underdog come dicono gli inglesaci di merda con rispetto non mi dà troppa responsabilità allora mettiamogliela e resto sempre della mia idea che non so chi sia jack haig e vado fiero di non sapere chi sia cioè vuoi fare capitano responsabilizzatelo cioè vedila come giulio ciccone se giulio ciccone gli dai troppa importanza fai la corsa per giulio ciccone giulio ciccone è probabile benissimo allora caro caro giulio ciccone non evita di fare la fine di diego rosa responsabilizzati diventa capitano e vi andare prenditi le tue responsabilità oggi ciccone non è andato benissimo non è arrivato né nel primo gruppo di robic però è arrivato a 13.03 ha perso una quarantina di secondi ciccone non farà mai il podio a un grande in un grande giro attenzione importante ciccone non farà mai il podio in un grande giro oggi giusto per dovere di cronaca oggi dopo il gruppo maica della cruz mother yates bernal poels e menties a 12 e 26 quindi hanno perso una quarantina di secondi e altrettanti 40 secondi la pezzi ciccone rocas nieve zaitz polanz e via dicendo comunque c'è stato un bello sparpaglio alla magrini su questa su questa salita dovuto praticamente all'attacco di roglic che ha spaccato il gruppo però io rimango c'era proprio necessità di dover prendere dei rischi così sull'ultimo pezzo della salita e sulla discesa che rischi casca perché ormai casca ormai anche lui è come bene poi quando ti impaurirci prendi tante botte io facevo un attacco la salita la discesa non era mica difficile oppure pericolosa sembrava una discesa tranquilla non una discesa io ti dico secondo me lui ha iniziato a dare bicicletta per una caduta cioè è stata una più casca e più che ricaschi dal mio punto di vista oggi la tappa doveva andare così la jumbo doveva tirare un pochino di più e poi si è sfaldata subito ok va bene la movistar e la bahrain visto che comunque loro rischiano qualcosa io non credo roglic massel lopez non lo so però e king e green martelli così a due minuti non lo so non lo so magari anche tutte le altre squadre che appunto hanno top 10 vedi la ineos vedi la bahrain tante altre squadre secondo me lì dovevano un po tirare o dare una mano ma detto questo sull'ultima salita visto che ha i cus lì davanti o cus fa la sua corsa e punta la top 7 8 quello che sarà o se no lo metti lì fa una bella andatura e scremi il gruppo senza prendere il rischio di essere solo in discesa dove tira e poi è cascato perché tanto è così chi rischia alla fine rischi anche di fare la frittata e roglic e andava bene perché se cascava più forte si faceva male ributtava all'aria dopo un turno anche una vuelta quindi poi io la trovo assoluta il signor roglic il signor roglic chiude il 2021 con una bella medaglia d'oro al collo e ti dico per uno che aveva iniziato la sua carriera da sportivo facendo un'altra disciplina e che chiaramente ha come apice le olimpiadi può essere non soddisfatto di più ampiamente soddisfatto io se vince la vuelta credo che sia molto contento se non la vince se ne fa una ragione sicuramente non lo troviamo a lubiana sulla panchina piangere disperato vabbè un'altra disciplina la vuelta però non sarebbe male sulla carriera di roglic che probabilmente non vincerà più un tour de franza a meno che di cataclismi perché non credo che che da qui in avanti sia in grado di battere poca c'era onestamente e quindi o si rifà sul giro d'italia non lo so cioè una vuelta io ma magari venisse al giro d'italia ma magari ma viene al giro d'italia viene al giro d'italia primos vieni vieni a vedere come il giro d'italia e vediamo un po' se c'è grado di vincere non ci viene ma l'ha vinto no l'ha vinto no no ha vinto carapazze perché sei messo lì a chiacchierare ha fatto tutta la valle d'Aosta a chiacchierare con il giro d'italia e ha fatto vincere carapazze cioè hanno fatto tutta la vallata basta dalla valle d'Aosta a chiacchierare vai tu vado io vai tu vado io non so io neanche in lingua parlassero vai tu vado io vado io salutati così cioè allora domani c'è una tappa interessante non è niente di particolare però c'è una salita simile a quella di oggi ha all'incirca una decina di chilometri dall'arrivo più o meno e discesa e poi c'è l'ultima rampa che addirittura presenta 800 metri se non leggo male al 20 per cento si ma è un arrivo molto conosciuto alla vuelta quello è un arrivo molto noto valpini a sé dove ci sono le fragole le olive le aseituna le fresas quindi domani potrebbe succedere qualcosina o sulla penultima salita che c'è anche il traguardo bonificazione o sull'ultimo strappo di di 800 metri al 20 per cento non si fede fede ti dico fede strade molto larghe perché praticamente sono tutte le strade dell'entraterra dell'andalusia sono strade molto simile a quelle di oggi l'arrivo può ricordare come incrocio brianson la parte di siena al come si chiama le strade bianche c'è uno strappo finale questa fusione no per dire che c'è la rampetta la rampetta ok no no adesso se asfalto non mi sembra sia asfalto però come come rampa sì sì ok una bella salitina così 7 800 metri no ma è un arrivo molto sì ma è un arrivo molto no no non arriva al 20 per cento è l'arrivo all'estate bianca no no ma infatti un incrocio tra siena e brianson brianson è molto picchia molto di più questa è la visione di piazzaro sull'arrivo di domani ma bisogna essere creativi no io prima volevo fare un appello poi volevo fare un appello io ti vorrei fare un applauso bull up perché ha indovinato la fuga pitone di chi è martin prima di grossa prima di grossa prima di grossa e poi di grossa martin tutti e due è andata con grossa prima per otto secondi e poi per una cinquantina per venti secondi nel me quindi c'è era tutto previsto tutto calcolato volevo fare un appello agli scalatori poi chiudo eh tutti gli scalatori maas lopez yates bernal ciccone qualsiasi metticeli tutti no quelli che lottano allora invece di dannarvi l'anima per cercare di reggere i roglic in salita no di di sfondarvi le gambe il cuore l'inzi per dare spettacolo ma chi ve lo fa fare ma smettete fate come guillem martin fermatevi in salita a un bar a un bar prendete un gelato fate passare cinque dieci minuti poi ripartite e poi il giorno dopo vi aggregate a 30 corridori in pieno ora risiate lì vi siete riposati con risparmio energetico vi siete riposati avete mangiato un gelato vi siete fatti una foto con i tifosi e il giorno dopo siete avanti in classifica a quelli che si sono rovinati per stare dietro a roglic io cioè vi do questo consiglio pensateci questo è il consiglio di Moulin è un ottimo chiusura il Moulin oggi è strano anche perché dopo l'ufficializzazione del suo del suo beniamino alla giumbo si è un po' disperato allora siamo la notizia è da ieri sera che beve da ieri sera che beve la giumbo perché è disperato? non mi sono ancora rassegnato all'idea che vada con i regali abbananti non sono ancora non lo fa Marcello invece Nibali Annastane è quasi fatta Nibali Annastane è quasi fatta con Conti e Mosconi esatto io faccio la domanda finale posso fare oggi sono incazzato come una bestia perché non so ancora chi sia Eiching e non lo saprò mai ma la mia domanda è non è chi è Eiching però se volete rispondere sotto fatelo mettete mi piace, non mi piace insultate i creatini il mullà fate quello che vi pare però la mia domanda la mia domanda la mia domanda visto che siamo alla vuelta è vi piace Pondriest commissario tecnico della Nazionale Italiana a partire dal prossimo anno? sì o no? sbizzarritevi mi piace, mi piace, mi piace non mi piace scrivete, insultate il mullà no, il mullà no è buono insultate il dottor Creatini iscrivetevi al canale insultate Marrucci io sono quello più moderato ditemi chi è Eiching intanto voi non lo sapete non sapete neanche voi chi è Eiching nessuno lo sa neanche la mamma di Eiching allora in conclusione che si è sforato i 25 minuti vi piace Pondriest vi garba Pondriest Pondriest come Città e vi faccio anche un'altra domanda se potete scrivere nei commenti voi come avreste impostato la gara di oggi se fosse stato i Roglic o magari Mas Lopez o coloro che lottano per la top 10 avreste lasciato tutto sto vantaggio a Guillem Martin io sarei andato al bambino io almeno avevo una stravesita io vorrei chiedere veramente a voi come come vedete come impostate una corsa del genere quando c'è una fuga in atto in questa maniera con Eiching e Guillem Martin che poi si è preso una maglia rossa vorrei oltre a essere Città per scegliere uno tra o Cassani o Fondriest si fa anche il nome di Bugno in teoria no Bugno è accompagnatore Bugno è capo delegazione capo delegazione capo delegazione perfetto non lo so vedete voi io vi voglio Città sia per la risposta a Marcello che anche la risposta al mio quesito sull'impostazione della gara di oggi ricordatevi di mettere mi piace commentare iscrivetevi al canale e poi anche la risposta a Mullah cosa prendete al bar in cinque minuti gelato caffè dieci minuti dieci Marcello o un panino con salame ciao ragazzi arrivederci ci si vede al bar